Ah, c'è argento, bestia. Nessun fiero guerriero danese si farebbe guidare in battaglia da questo rammollito. Può darmi tutti gli scudi che vuole. Intendi dire che rifiuti i miei doni, brother? Mi stai facendo perdere tempo. È un'offerta generosa, fratello. Sarebbe stupido rifiutarla. Se rifiuti, l'onore della tua stirpe sarà macchiato per tutte le generazioni a venire. Stanne fuori, morso di lupo. Accetta il dono, abbiamo altri problemi. Un uomo di Ruet? Sì. Piccava il naso vicino alle mura, cercando un modo per infiltrarsi con mezza dozzina di uomini. Se ce n'è uno, ce ne saranno altri. E ora lo sapremmo se non l'avessi ucciso. Ero andato a svuotarmi e mi ha colto di sorpresa. Ho dovuto scegliere tra lui e il mio arnese. Valdis ha ragione. Ce ne saranno altri. Se ne avessi visti altri, avrei ucciso anche loro. Dove l'hai incontrato? Appena fuori dalle mura di Northwich. Proprio sulla riva. Staranno cercando una via per far infiltrare i loro incursori. Gesù. Ci serve un prigioniero da interrogare. Andrò io. Voi restate qui e non fatevi vedere. Si avvisterò qualcuno di sospetto. Lo porterò qui. Questa sarà. I ricognitori di Ru'ed saranno accampati vicino al fiume, fuori dalle mura. I ricognitori di Ru'ed saranno accampati vicino al fiume, fuori dalle mura. Uno di loro parlerà.